Ciao a tutti, io sono Elena Perosino, l'insegnante del corso di disegno e pittura. Sono arrivata all'Università Popolare Nuova quest'anno. È stato un corso diviso tra il corso di disegno e il corso di pittura d'acquarello. Il prossimo anno sarà un corso unito, quindi si passerà dal disegno alla pittura d'acquarello, primo livello e secondo livello. Io sono arrivata all'Università Popolare da un percorso di restauro e anche di artistico, di esposizioni e di arte, sia scultura sia pittura.